Vangelo del giorno, con breve commento, 8 maggio 2023. Oggi siamo interrogati sull'amore, sì, sul nostro vero amore verso il Signore. Ecco quali sono le indicazioni che il Vangelo ci dona per sapere se davvero noi amiamo il Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'iscariota, Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Quante volte noi diciamo io amo il Signore? E magari è vero, quello è il nostro modo di amare il Signore. Oggi però dobbiamo entrare nel vero modo, nella vera modalità di amare il Signore e ce lo dice Gesù stesso nel Vangelo. Chi mi ama osserva i miei comandamenti, o meglio, chi osserva i miei comandamenti mi ama. E poi dirà dopo, chi osserva il mio Vangelo mi ama. Ecco, non bisogna dire nient'altro. Solo questo. Vogliamo sapere se realmente amiamo il Signore? Vediamo il nostro modo di vivere i comandamenti. Alcuni non sanno neanche che i comandamenti sono dieci. Alcuni pensano che commettere peccato sia soltanto non bestemmiare, non rubare, non uccidere. Ma ce ne sono altri sette comandamenti. La messa domenicale, l'amore ai genitori, il rispetto della vita altrui, il rispetto della donna, non desiderarla con morbosità o con desiderio carnale. Tante cose fanno parte dei comandamenti. E noi siamo bravi a rispettarli, a vivere il Santo Vangelo di Dio? Beh, se vogliamo capire se realmente amiamo il Signore, cerchiamo di capire se realmente viviamo la Sua parola, il Suo Vangelo, i Suoi comandamenti.